Doppia plastica, apriamo e all'interno troviamo Smarties fondamentali, un ingegnere di conforto, abbiamo cioccolato proteine da sciogliere nell'acqua calda che poi provvederemo a sciogliere, che penso che, no questa qua non è neanche da sciogliere in acqua calda, si tratta addirittura di mettere all'interno del fornellino senza fuoco, abbiamo la salsa, abbiamo il cheese per head, formaggio, abbiamo le pastiglie per lavare i denti, che sono le famose cicche rividente, il caffè istantaneo e tutto poi un po' di altri ingegneri di conforto, finalmente arriviamo al fornello e alla plastica, e finalmente qua ci sono, presumo, i maccheroni, dunque io vi reputo che sia una reazione abbastanza completa, e niente, man mano che la consumiamo vi faremo sapere, alla prossima!